Ciao Stefano, ho investito 300 euro ieri su Bitcoin perché mi sembrava basso, ho fatto bene? Oppure, ciao Stefano, ho appena investito 50 euro su SP500, ho fatto bene? Oppure, ciao Stefano, volevo comprare 200 euro di oro ora, dici che posso prenderlo? Questi sono solo alcuni dei commenti, alcuni dei messaggi che ricevo tutti i giorni in cui mi viene chiesto se o meno ha senso comprare un determinato asset in un determinato momento. Quindi ho pensato di fare questo video per rispondere a tutte quelle persone che si stanno facendo queste domande e rispondere a queste persone con una guida completa a cui attenersi per poter rispondere in autonomia a queste domande. Quello che voglio spiegare e che voglio far passare come concetto è che non sono io a doverti dire se hai fatto bene o male, ma dovresti saperlo tu. Nel momento in cui scegli di comprare un asset di qualsiasi tipo, che sia oro, che sia un'azione, un ETF, Bitcoin, qualsiasi cosa, dovresti sapere il perché la stai comprando. Ed è proprio quello che la maggior parte di persone non sa e che poi le porta a perdere soldi. Perché dico questo? Perché come diceva anche Peter Lynch, il problema oggi sui mercati è che la maggior parte di persone comprano perché hanno sentito l'amico che parla di una determinata azione o cripto e quindi la comprano perché vogliono guadagnare e non vogliono rimanere fuori dal treno. Ma i treni passano tutti i giorni, tutti i secondi, c'è sempre un nuovo treno da poter cavalcare. Quello che dobbiamo fare però è scegliere consapevolmente quale treno cavalcare. Consapevolmente significa non perché io ho sentito che Bitcoin sta salendo su, potrebbe arrivare to the moon, allora lo compro. Perché se io mi approccio in questo modo, quando Bitcoin mi andrà sotto del 50%, ma anche solo del 20% e io vedo i miei soldi calare, avrò paura ed esco dal mercato, vendo in perdita perché sono entrato tanto veloce quanto tanto veloce uscirò. Perché non c'è una solida analisi dietro. Non c'è un ok, ho investito su questo asset perché credo che nel lungo termine performerà e non me ne frega assolutamente nulla della speculazione della volatilità di breve termine. Il motivo per cui la maggior parte di persone perde sui mercati quando investe, si nasconde proprio dietro questo semplicissimo commento, dietro questo semplicissimo messaggio. Ho comprato tot di questo asset, ho fatto bene. Come risolvere questo problema? Ti do una checklist che ti devi mettere lì, seduto, compilare da te e vedrai che alla fine, dopo aver completato questa checklist, aver risposto a tutti questi punti, la risposta non sarò io a dartela, ma te la darai da solo. Quindi non sarò io a dirti sì, hai fatto bene a comprare ieri 100€ di Bitcoin, ma sarai tu stesso a dire ok, ho fatto bene ieri a comprare 100€ di Bitcoin. Primo punto, prima questione che dovresti porti è che valore ha per me questo asset che ho deciso di comprare? Ha senso investirci oppure no? Ora ti metti lì per rispondere a questa domanda che cosa dovrai fare? Dovrai necessariamente studiarlo. Quindi hai scelto di comprare Bitcoin? Bene, per rispondere alla domanda se ha senso investirci o no, devi conoscere Bitcoin. Quindi sarai obbligato, per rispondere a questa prima domanda, a aprire un libro e andare ad analizzare quell'asset su cui vuoi investire, che sia oro, che sia un'azione, qualsiasi cosa, o Bitcoin, qualsiasi cosa. Ti metti lì, l'analizzi, la studi e cerchi di capire 1. Il perché esiste. 2. Quali problemi risolve e perché. 3. Come ha performato nel tempo. 4. Quali potrebbero essere le performance future. Potrebbero essere, nessuno ha la sfera di cristallo, ricorda. 5. Perché potrà funzionare ancora in futuro. 6. Quali altri problemi potrebbero uscire che invece gli impediranno di funzionare in futuro. e così via. Quindi approfondisci, studia, comprendi dove vuoi posizionarti. E poi passa alla domanda successiva. Quindi una volta che hai capito l'asset, se ha senso investire o no su quell'asset, quindi avrai una risposta che è sì o no, non esistono i forze, esiste un sì o un no, passa al punto 2. E il punto 2 è Quale pensi sarà il valore futuro di questo asset che hai scelto e in quale orizzonte temporale? Se per te Bitcoin tra 5 anni sarà a 100k, comprarlo oggi a 60k può avere un senso? Sì, è quasi un per due del portafoglio, va bene. Se per te però tra 5 anni Bitcoin sarà a 30k, Ha senso comprarlo oggi a 60k? Probabilmente no. Lo sto comprando a troppo rispetto a quello che mi aspetto in futuro. Capito l'asset, devo anche provare a ipotizzare un possibile target futuro. Possibilmente a lungo termine, dico io. Cioè 5 anni, vabbè, però è una deformazione mia. Per me a lungo termine significa 20-30 anni. 10 anni se proprio vogliamo ridurre. Però teniamo che per molte persone 5 anni è già a lungo termine. Quindi prendiamo 5-10 anni, 20 anni come orizzonte temporale. Settati dei target probabili. Probabili. Nessuno ha la sfera di cristallo, sottolineo di nuovo. E in base a quello comprendi se ha senso comprare adesso. E qui si va a passare al terzo punto. Ti sei posto un orizzonte temporale? Quindi hai comprato oggi per rivendere tra un mese? O hai comprato oggi per rivendere tra 5-10 anni, 20 anni? O hai comprato oggi per tenere per 50 anni? Quindi a seconda di quello che è il tuo target, devi chiaramente anche comprendere il tempismo. Cioè per quanto tempo vuoi tenere quell'asset in portafoglio. Perché è importante? Perché sennò ti ritrovi a comprare oggi, spinto dalla FOMO, e a rivendere domani che è sceso del 20% e dire no, vendo perché sto perdendo soldi. Evitare questo è possibile solo dandosi un tempo. E stando all'interno di quel tempo, vedere come matura un asset all'interno di quel tempo. 4. La cifra che ho intenzione di investire è una cifra sensata, cioè ponderata rispetto alle mie entrate, o è esagerata, cioè quanto decido di rischiare. Se io perdessi questi 100 euro che voglio mettere su bitcoin, o 200, 500, 1000, quello che è, se io li perdessi, quanto sarebbe grave per me? In quanto tempo di lavoro dovrei recuperarli? Andrei sotto un ponte? Questa è un'altra domanda importante, cioè capire che quello che sto investendo, se non è così difficile per me recuperare quella soglia, nel caso in cui perdessi chiaramente, allora io riesco a distaccarmi da quella cifra. Ipotizza di essere un operaio, ormai non so quanto guadagni, ma fai finta, 1200 euro al mese. Se tu investi oggi 10.000 euro su bitcoin, che significa un anno di stipendio, forse, forse se lo perdi ti girano le palle. Però se tu investissi 120 euro, cioè che significa il 10% di una tua mensilità, chi se ne frega? Sono 120 euro, va bene, cioè ne faccio di più, va bene. Cioè sono disposto a rischiare quella cifra. Questo è un piccolo switch base, ma che ti permette veramente di cambiare totalmente poi i risultati del gioco. Cioè non devi per forza investire tutto quello che hai. Inizia investendo con poco. Ho fatto un video dedicato in cui spiego che anche investendo con poco si possono ottenere risultati. Non è che devi per forza andare all in. Inizia con poco. Anzi, la cosa migliore è farsi proprio un pack mensile con il 10% delle proprie entrate, da lavoro, da tutto quello che vuoi, fai finta che ti entrano 1000 euro al mese, 10%, 100 euro al mese tu li investi con cadenza regolare. In questo modo non ti vai a chiedere tanto ora, in questo momento, ha senso comprare o no. Perché sai che tanto compri in modo automatico, ogni mese, tac, 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 con cadenza regolare. Il resto chi se ne frega? Non ce ne frega niente del resto. A noi ci interessa accumulare. Perché? Perché abbiamo visto il punto 1 che valore ha, quindi sappiamo dove stiamo andando a investire, il punto 2, il punto 3, con quali tempistiche e su quali orizzonti temporali. Passiamo a questo punto al punto 5, che in realtà si ricollega a quello che ti ho appena detto, cioè hai una strategia, hai una strategia di investimento o stai mettendo 200 euro o 100 euro così a caso. Perché se stai mettendo 100 euro così a caso, allora ti dico già non metterli. Cioè regalali al primo barbone che trovi in strada, gli fai un regalo, lui sarà contento e tu probabilmente sarai anche più felice del vederli perdere bruciati magari sul mercato, perché le investiti ora e dopo un mese sono bruciati. Quindi ancora una volta, decidi dove posizionarti e crea una strategia per posizionarti. Una strategia è quella che ti ho detto per esempio io, ogni tot tempo, esempio un mese, tac, faccio un acquisto. Fine. Molto molto semplice. Evita gli acquisti emotivi, gli acquisti di impulso e acquista con una cadenza. Ed è questo che nel lungo termine ti porterà a risultati. Questo perché se hai acquistato di impulso, venderai di impulso. Se tu oggi hai comprato 200 euro di bitcoin o 300 euro di bitcoin, perché visto che è arrivato a un prezzo che secondo te va bene, però sei stato triggerato emotivamente, quindi hai fatto appunto un acquisto di impulso, molto probabilmente se scenderà di un 20%, tu venderai di impulso per paura di perdere tutto quello che hai investito. E funziona così. Se invece tu acquisti con strategia, quindi hai un piano solido da seguire, sì, hai scelto l'asset su cui posizionarti, sì, hai scelto in quale orizzonte temporale posizionarti, sì, ancora una volta, allora devi solo seguire il piano, follow the plan. Non serve nient'altro. Non ti serve nient'altro. Quindi riguardati questi cinque punti, studiateli, mettiti lì un'oretta, due orette seduto al tavolo, te li scrivi e rispondi a ciascuna di queste domande prima di investire su un qualsiasi asset. Rispondendo a queste cinque domande, ma in modo serio, non così, sì, ok, sì, no, in modo serio, devi studiare quello che stai facendo. Se tu riesci a rispondere a queste cinque domande, alla fine, quando sarai arrivato alla quinta domanda e avrai risposto, ti garantisco che non ti servirà più chiedere a me o a chiunque altro se stai facendo bene ad investire o meno, perché la risposta ti uscirà come per magia e nascerà dal fatto che hai acquisito competenza in quell'ambito lì. Quindi la risposta se hai fatto bene a investire in un determinato asset non te la posso dare io, non te la può dare nessun altro, la puoi dare solo tu e per darla tu però devi avere competenza. Rispondi a queste cinque domande e la risposta sarà più che chiara. Ti ringrazio per essere stato qui con me, iscriviti al canale se ti fa piacere ricevere contenuti di questo tipo, analisi, strategie, tutta una serie di funzioni e strumenti interessanti e utili nel mondo degli investimenti, condividi questo video con chi si sta ponendo questa domanda o sai qualche amico che ti scrive guarda volevo comprare oggi bitcoin, faccio bene, faccio male, gira lì questo video e vedrai che troverà da sé la risposta. Ti ringrazio per essere stato qui con me, un abbraccio grande e ci vediamo nel prossimo video. Ciao.